Ciao a tutti, mi chiamo Yolanda Pensa e nel 2016 ho organizzato il raduno mondiale di Wikipedia a Esinolario. Siamo a Esinolario, questo è il nuovo allestimento del Museo delle Grigne, che comprende anche la fotografia dell'evento. È un evento che ha coinvolto molti soci di Wikimedia Italia, che ha coinvolto tanti volontari, ed è stato un evento veramente collaborativo, un evento che ha mostrato anche come si possono fare grandi cose quando lavoriamo insieme. Spero che questo sia un insegnamento bello che resta all'Associazione Wikimedia Italia e che ci aiuti anche in futuro a organizzare i progetti interessanti insieme. Buon compleanno Wikimedia Italia!